salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video allora oggi non mi alzo perché lo ammetto non ho i pantaloni addosso troppo caldo troppa non voglia di metterlo in questo momento però è sfogo ragazzi e ora vi spiego perché intanto mettete mi piace un commentino perché il video sul padova ormai è una cosa settimanale perché prima o poi devono farmi parlare barra sfogare perché sennò non sono contenti allora ero lì sul mio letto per la penichella pomeridiana per aver lavorato la mattina non avevo motivazioni per fare un video poi il mio occhio cade su una cosa qui su instagram di Antonio Donoruma che ormai avevamo detto che non rinnovava ma nel video precedente che sta andando alle stelle chissà come mai avevo detto che era per sua volontà che non rinnovava e così mi era stato detto vabbè ok e ci sta ma adesso ne parliamo perché adesso prendo un po' il format che sta facendo in questo periodo Mustang andatelo comunque a seguire anche voi e reagisco e leggo questa lettera questo post di Antonio Donoruma sul suo instagram allegato anche c'è un video molto bello ma leggiamo leggiamo allora cari biancoscudati ci tenevo a ringraziarvi personalmente per questi anni fantastici dal mio arrivo a Padova nel 2021 ho dato a questa città a questa società e soprattutto a voi tifosi tutto quello che avevo in me in cambio siete stati per me una famiglia che mi ha dato tutto l'amore e il supporto che potessi desiderare e fin qua perfetto purtroppo non per mia volontà e qua mi fermo mi incazzo porcaccio di un non voglio bestemmiare sennò mi tocca editare mettere i bip e non voglio non per mia volontà santo Dio oggi mi trovo ad annunciare che il mio percorso a Padova è giunto al termine aver indossato questi colori per più di cento presenze molte nelle quali da vostro capitano è stato sicuramente uno dei momenti più orgogliosi della mia carriera e io ho i brividi ragazzi io ero super contento del nostro santo del nostro porterone del fatto che fosse addirittura il capitano nelle ultime presenze qua nell'ultima stagione credo da questa stagione e poi che mi dicono che non è per sua volontà voleva dire che un modo magari c'era per tenerlo ancora e non era forse solo per quanto riguarda il fatto che gli avevano detto tu farai il secondo di Fortin qua c'è qualcos'altro dietro qua qualcuno mente e io credo che sia stata veramente la società a dirgli caro via non possiamo più pagarti lo stipendio così eccetera eccetera o robe simili ma non è per sua volontà lo dice lui lo dice il calciatore io non ho parole io non ho parole non ho più parole per questa società ma tanto sappiamo che questo non è il fondo del barile lo sappiamo lo sappiamo vi ringrazio con tutto il cuore sarò per sempre vostro sostentore grazie per avermi accolto trattato come uno di voi un ringraziamento speciale va anche ai miei compagni di squadra agli allenatori e a tutto lo staff per il loro sostegno la loro dedizione il loro impegno senza di voi questo fantastico percorso non sarebbe stato possibile un abbraccio Antonio Donna Roma io chiude qua il il suo post io non ci posso credere io non voglio dare contro a Fortin a Voltan che dovrebbero essere i nuovi portieri del Padova l'ho sempre detto anche nel video precedente non sto dando su parole bestemmioni ai nuovi arrivati o comunque ai giocatori che sostituiscono quelli che partono io sto incazzato come una bestia con la società che decide di fare queste scelte staremo a vedere lasciate un like ragazzi ditemi la vostra nei commenti e al prossimo video che secondo me sarà sempre uno sfogo sempre Forza Padova comunque